Per i produttori di olio extravergine di oliva si preannuncia una stagione da dimenticare. I dati raccolti da Italia Olivicola, condotta nell'ultima settimana di settembre, sono impietosi e segnano un meno 50% alle quasi 430.000 tonnellate dello scorso anno, attestandosi a poco più di 215.000 tonnellate. Nelle Marche si produrrà il 39% in meno di oliva rispetto al 2017. Ad incidere pesantemente sono state le condizioni meteorologiche altalenanti ed estreme dello scorso inverno, che hanno prodotto danni considerevoli alle piante e la mosca, che come si dice in gergo ha già bucato gran parte dell'oliva sugli alberi facendola cadere a terra prima del raccolto. Vedi qui abbiamo il danno della mosca, vedi entrata da qui, vedi come è tutta mangiata, tutta dentro la polpa, come è tutta rossicchiata. Quindi anche raccoglierla e macinarla con la mosca dentro non giova? C'è una perdita grossa di qualità, di qualità dell'olio. C'è il rischio però che si faccia questa cosa in giro? Ma sicuramente. Questa è un'oliva che non ha avuto nessun trattamento. Allora chi non ha fatto nessun trattamento quest'anno? Le olive le vediamo. Non c'è un'oliva buona da raccogliere qui, purtroppo. Chi ha fatto il trattamento, il convenzionale, quest'anno avrà una raccolta normale, buona. Chi ha fatto il biologico, oppure non ha dato niente, chi non ha dato niente non raccoglierà niente. Chi ha fatto il biologico, lo penso che un 50-60% può raccogliere dell'oliva che c'è. Poi da noi ci aiuta molto il mare per arrivare a questa mosca. Più siamo esposti al mare, più la mosca ci dà fastidio. Per il consumatore finale questo che cosa significa? Un aumento dei prezzi dell'olio? Ma sicuramente. L'olio buono sicuramente qualcosa in più costerà. Qui siamo in un terreno sulla strada per Monte Giove, esposto ad est sul mare. A peggiorare la situazione ci ha pensato il vento di Bora e il fortissimo gelo dello scorso inverno. Questa qui è arrivata con la neve del 5-6 febbraio, con la gelata e la Bora, ha trovato le piante in vegetazione. Perché quest'anno la pianta è stata in vegetazione fino a molto tardi, perché prima ha fatto il caldo. Trovando la pianta che ancora germogliava, col freddo ha fatto questo lavoro. Prima ha bruciato la buccia e poi è arrivata nel legno e si è seccata. In questo caso che cosa occorre fare? Qui è da puttare via il secco, tagliare e aspettare che vegeta di nuovo. Quanto tempo passerà prima o poi di tornare a raccogliere l'oliva? La piccola raccolta, se va bene, la fai fra due anni. La piccola raccolta, dopo per ritornare come adesso ci vuole 10 anni.